Ciao ragazzi, io sono Shen e siamo entrati su Hearthstone, 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 Hearthstone! E siamo qui per un nuovo spacchettamento di carta in cerca di buone leggendari per potenziare tutti i nostri musi. Abbiamo ben 20 bustine, oggi abbiamo però poca verità. Abbiamo 14 delle terre, dei demoni e 6 del set base in cui siamo sempre alla cerca. Di voi sapete che chi da estovate della rovina non apparirà mai. Ma quando le ciance e le ciance levante iniziamo il nostro spacchettamento, ci viene qualcosa di gustoso e sanzioso. Abbiamo qualcosa di inutile e interessante, una sola rara. Abbiamo una crescita eccessiva, abbiamo il raggio del patà, carca faco, carca sigilli, cremisi e rara. E' un portale oscuro. Ok, niente di che, niente di utile. Andiamo. Dai, in questo giro, una cosa di bello che ci uscirà fuori. Una leggendaria. E una rara. Iniziamo bene. Il signore delle spie. Ingegno di iniziatore. Colpi sleali. Molto carine. La rara. La rara è un Libram della saggezione. Legendaria, eh. Legendaria. Che le danno il demonitore. Cosa che fa? Allora, un semana, 3-3, distrugge un servitore. Se hai pescato questa carta in questo turno, distruggi invece tutti i servitori tranne questo. Cattivo, ragazzi. Molto cattivo. Carta molto interessante. Cattivo, ragazzi. Per il set partito, c'è un amico. Eh, siamo partiti bene. Tre rare, oh. Ci sto. Circo di guarigione. Tagliare con l'acqua nera. Rara. La prima rara è ferocia. Rara dorata. Rara dorata. Risucchio d'anima questa appena. Eh, non è una dorata. Rara. E la terza rara invece è un vortice di lame. Oh, dai. Una leggendaria. E una dorata. Stanno, stanno bene. Sei rock the sheave. Comandante l'info morta. Uncomuncolo inibito. Rara e la rara èазывante. Aggressione. Ah, ok, ok. Questa è sempre carta nuova, quindi. Rara e busta. Mercanziatrice esplosiva. Viandante camuffato. Tessi ombre del cielo. Mano di Adal. Rale! Golem di Lottami. Ok. Dai! Guarda che stiamo andando a ralti qua. Niente, una sola rara. Avanguardia tipa ossa. Romulo 20. Abissale supremo. Omunculo inibito. Rara! E Libram della saggezza. Io e Libram. Non sono quasi tiri. Cosa abbiamo? Niente, niente, niente rara. Oh, che pillole! Giovane birravi. Furto del pensiero. Folgore della terra. Col impititore. Rara! E la rara è un soggiocatore scarlato. Questo. Penso che molte di queste carte dei pack base diventeranno un'essenza. Allora, niente, 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 niente rara. Cultista. Rugginoso. Abissale supremo. Scorpide scavatora. Guardia imprigionata. E rara! La rara è una scorta del corsaro. Questo è utile per il guarito. Non stiamo trovando niente di modi. Questo è un progetto. Rara, niente, niente. Epica. Oppure la epica. Perché è un riflesso totemico. Questo è buonissimo per il mazzo totem. Gira il ladder e fa il suo porco dovere. Se lo riesci a non intuire, se lo riesci a beccare, lo puoi bloccare molto facilmente. Se la carta è giusta. La satricite di da ossa. Scorpide scavatora. Rara! La rara è un torrente. La epica è lume nero. Dopo che ha subito l'anne ricarica due cristalli di mana. Simpatica. Mi piace l'artworld. Vediamo che il nostro buristone è un ladder. Si chiama set classico. Noi continuiamo a fare una cosa. Sembrano tentare. Gruberia. Entita speculare. Un reggente di trallo. Diavolo di sabbia. Rara! E la rara è una gallina arrabbiata. Utilissimo. Ovviamente sono una casta. Puglia. La rara. Entita viene. Mercanziatore. Guardiano. Mercanziatore. Guardiano. A proteosi. Cinghiale infernale. Rara. E la rara è un comandante fauci di trallo. Ok. Ecco, ho passato una epica. Entita rara. Entita. Assistente alto. A questo qua sembra per il Libra. Avanguardia Tritos. Iniziato rucinoso. Rara! La rara è una leonesa del Mok Natal. Penso che abbia detto giusto. Epica dorata! Uh! Epica dorata! Sentita! Setech di Sivell. Dopò che hai lanciato una magia sul servitore. Metti una magia del sacerdote nella tua mano. Mmm. Incredioso. Interessante diremmeno. Una leggendaria. Negi pacchi base. Classici. Chiamavano il giusto. Eltità speculare. Fabbro. Tarati. Furto del prossimo emanatore. La rara è una tormenta leggendaria del set classico, eh? Milaos, manalampo. Va bene, va bene, Milaos. Eri una delle carte che meno mi sarei spesso di trovare per utile. Non so cosa, però... Ok, grazie di un'altra leggenda. Vagabondo maledetto. Orco arrogante. Ops, ho sbagliato. In piedi rottami di vita, questo è molto buono per lo stregole. Guarda impegnonata. Rara! E' l'altra rara è il gelo profondo. Siamo agli snoccioli, i culpi di Peck. E va, due leggendari. Rara. Dai! Sono spachettami di personaggi e molto peggio. Forse delle incanteggi queste, è buonissima per fare un corso. Odeologie. Mirastelle. Assente Altor. Mercantettrice esclusiva. Rara! E la rara è un colen di rottami. Che è... E' un'altra rara. Sesto classico. Niente, niente. Rara, niente. Niente. Rara. Frabbo darati. Berserker non ha mano. Potere della natura. Comune dorata. Un'altra dorata. Abberrazione delle palote. Niente di che, però. E' pur sempre la dorata. E certo. Non ci sfuta sopra. Alto green e delle savane. E poi c'è te, queste dorate, ma perché comunque avendole già, due copie, posso... sciardarli senza arcana. Niente di che, qua c'è qualcosa di bello. Tantazione vegetita ossa. Quante ne ho trovate finora? Rinnovamento. Fa un civile in rito. Alcatalgo. Rara. E la rara è una tempista. Incarognita. Questa è buona. Allora. Siamo agli ultimi play. Questa abbiamo l'espresso finale. Torino. Una epica. Una rara. Vabbè, dai. Attacca brighetti di la ossa. Gungarl. Gannarg. Inibito. Sivarra. Depredatrice. Molto carina. Rara. La rara. È un cercaverità Altor. Sempre Libra. E l'epica. E l'epica invece è Ragiro. Segreto del lago. Molti video preppi. Set classic. Siamo. Iniziamo. L'ultimo. Boosting. Col peccettino. Con l'inversario del terrore. Sergente violento. Imp del sangue. Rara. E la rara è la guardia furia del sangue. Ultimo pecc. Vediamo se non pecc ci regala tanti gioie. No. Vila evocatrice. Satiro inibito. Il demonio inibito. Quante carte inibite. Tessi ombre del gelo. E la rara è un branchia solare inibito. Un burlo. Come ho mai visto sto burlo. Quando si sveglia è poco di un burlo con uno. Capo qua. Beh ragazzi. Un po' di cose le abbiamo trovate. Quindi non ci sputo troppo sopra. Vediamo un po' quante essenze ci siamo fatti. 100 per 20 comuni. Wow. Niente di che ma. Ce le buttiamo lì in mezzo. Giusto. Ok ragazzi. Come sempre vi ringrazio per la visione. Vi do lasciare un like e un commentino. E noi ci vediamo al prossimo video. Qui da Scena è tutto. Bye bye. Ciao.